La vita. Ma quanto fa schifo la vita. Sbagliato che sbono. Non fa schifo. Ovvio siamo in balia di una montagna lussa di emozioni. Si passa dall'estrema gioia all'infinita tristezza in pochissimi istanti. Ma se non fosse così, dove sarebbe il bello? Capisco benissimo, tra l'altro, che con tutto quello che sta succedendo non si possa far altro che essere pessimisti ed essere giù di morale. Ma pensateci un attimo. Ogni tipo di esperienza vissuta, brutta o bella che sia, in un modo o nell'altro ti rende più consapevole. Che sia di te stesso o di qualsiasi altra cosa. È un dato di fatto. Ma da questa esperienza, da questa consapevolezza, sta a te decidere se trarne i benefici per diventare una persona migliore. Una persona migliore in primis per te. Per gli altri arriverà di conseguenza. La vita è una sola cipigna. Se c'è qualcosa che vogliamo fare, dobbiamo farla nell'esatto istante in cui ci viene in mente di farla. Non dobbiamo tergiversare perché magari pensi, oddio adesso se faccio questa cosa chissà cosa pensano gli altri, gne 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 gne, che sboro. Facciamolo e basta. Ci viene una voglia improvvisa di ballare durante una passeggiata in mezzo a una piazza. Facciamolo. Ci viene voglia di bere un bicchiere d'acqua in bar in pieno centro. Facciamolo, anche questo? Ok. Ricordate, ieri è storia. Domani è un mistero. Ma oggi è un dono. Per questo si chiama presente. Ghe sboro.